Ciao a tutti, vediamo in questo video tre frasi che rendono un uomo fuso d'amore per te. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco ed iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Tramasco, nel quale ti posto i link qua sotto, canale dove parlerò di crescita personale in amore, nella sessualità, nell'autorealizzazione. Vatti a scrivere qua sotto e inoltre ti ricordo il mio seminario online martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 sulla legge d'attrazione, dove parlerò di legge d'attrazione, come attrarre nella tua vita l'amore, come attrarre nella tua vita le cose che desideri. Per partecipare al seminario basta che vai nella home page del mio canale Felicità Benessere di questo canale e tastino Abbonati che sta a fianco al tastino Iscriviti e scegli come abbonamento l'abbonamento Seminari Online. Poi il seminario ti resterà per un mese, quindi avrai tutto il tempo per vedertelo con comodo, rivedertelo tutte le volte che vuoi. E ti ricordo che magari puoi andare col computer, alle volte col cellulare è difficile fare la premontazione, non sempre, non con tutte le applicazioni. Comunque col computer non hai problemi. Puoi ovviamente il seminario puoi anche guardarlo col cellulare, questo non c'entra nulla. Bene, allora veniamo al tema come rendere un uomo fuso d'amore per te con tre frasi. Allora, la prima frase è quella che va a sconvolgere completamente tutta la sua vita, va a sconvolgere completamente tutta la sua essenza, diciamo così, è un complimento diretto su un suo difetto. Fa pure rima, un complimento diretto su un suo difetto. Questo gli genera un qualcosa che non riesce a comprendere, genera un'intensità emotiva estremamente forte e lo coinvolge. Sembra strano provare per credere e lo coinvolge. Complimento diretto su un suo difetto. Ovviamente il difetto devi trovarlo, il difetto può essere percepito. Alle volte può essere anche un difetto fisico, visibile ad esempio, no? Questo è molto importante. Seconda frase è parlare delle sue paure. Cioè se tu intuisci che hai una paura di qualunque cosa, tu parla di questo argomento, perché anche lì è una fonte di emozione bomba, diciamo così, che lo fonde proprio dal punto di vista delle emozioni. E poi la terza cosa, che è una frase che ha tanti doppi sensi, ed è questa frase qua, mi sento sicura quando sono con te. Allora, questo lo indurrà a cercarti di più, perché il sapere che tu sei sicura quando sei con lui, innesca tutta una serie di movimenti psicologici, no? Una sorta di sindrome da superman che lo spingerà a cercarti, a cercarti di più. Queste tre frasi sono importantissime, molto più potenti di quanto tu possa immaginare. Neanche la tua più fervida immaginazione può capire quanto sono potenti. Lascia scritto nei commenti qua sotto se tu hai provato o prova e poi vedi i risultati, oppure scrivi quello che tu fai normalmente, insomma, esprimi la tua opinione, così diamo un contributo a tutti. Ti ricordo di iscriverti al canale, seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriverti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Tramasco, del quale trovi il link qua sotto. E ti ricordo il mio seminario online, martedì 5 maggio, dalle 20.30 alle 23, seminario online sulla legge d'attrazione. Per partecipare devi andare sulla home page, tastino abbonati e selezionare l'abbonamento seminari online. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!